Ancora una tragedia sulle strade piacentine, ancora lungo la statale 45, ancora con motociclisti coinvolti. Poco dopo le 14 di oggi a Rivergaro, all'incrocio con la strada provinciale per Pieve Dugliara, una vettura e uno scooter di grossa cilindrata si sono scontrati violentamente, scaraventando a terra i due occupanti del motociclo. Per uno di loro non c'è stato purtroppo nulla da fare. Si tratta di un uomo dell'Odigiano di 60 anni. Inutili i tentativi di rianimazione operati dagli uomini del 118 di Piacenza, ma anche da quelli di Milano e Parma giunti sul posto con due elicotteri di servizio. Gravissime le condizioni anche dell'altra persona sulla moto, una donna di 57 anni, anche lei l'Odigiana, condotta dall'eliambulanza all'ospedale maggiore di Parma in condizioni critiche. A bordo dell'auto una 57enne di Bobbio con la figlia. Sul posto anche gli uomini della pubblica assistenza Sant'Agata di Rivergaro e di quella di Ponte dell'Oglio, oltre gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi e della deviazione del traffico con la statale 45 rimasta bloccata a lungo per consentire le operazioni.